Con il tuo 5x1000, la Fondazione Dognocchi sviluppa programmi di riabilitazione personalizzati all'avanguardia, grazie alla ricerca in centri altamente specializzati. Promuove progetti di solidarietà internazionale nei paesi in via di sviluppo. Dà ogni giorno la speranza di andare avanti a tante famiglie. Guarda il futuro e agisce nel presente, accanto alla vita, sempre. 55 strutture sociosanitarie, 10.000 assistiti ogni giorno, 6 progetti solidali nel mondo, 6.000 operatori, 1.300 volontari. Cosa è il 5x1000? È una quota dell'IRPEF che si può destinare a enti che si occupano di ricerca o attività socialmente utili come la Fondazione Dognocchi. Versare il 5x1000 è un gesto veloce che non costa nulla. Chi può donare? I dipendenti ai pensionati con il modello 730, i titolari di reddito di imprese di lavoro autonomo con il modello redditi persone fisiche, tutti i soggetti non tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi con la certificazione unica CU. Come puoi donare? Selezionando uno dei riquadri tra sostegno al terzo settore, finanziamento alla ricerca sanitaria, finanziamento alla ricerca scientifica, firmando e scrivendo il nostro codice fiscale 047 936 50583. Insieme alla Fondazione Dognocchi, la tua firma è il loro sostegno. Grazie.